Movimenti importanti in casa del centrodestra a Sanremo per il sostegno alla candidatura a sindaco di Sergio Tommasini. Nelle ultime ore si sta facendo infatti sempre più probabile la candidatura di Olmo Romeo, membro del CDA del Casinò e presidente di Federgioco, in una delle liste che sosterranno Tommasini. Romeo potrebbe essere candidato nelle fila della Lega, ma per avere maggiori certezze sarà necessario attendere la prossima settimana. Intanto per domenica è prevista la visita al point di Tommasini in Piazza Colombo alle 18 da parte del presidente leghista del Consiglio regionale Alessandro Piana, mentre lunedì alle 15 sarà la volta del vice ministro leghista alle infrastrutture Edoardo Rixi, che inaugurerà il point del Carroccio in Via Roma. Sempre la Lega protagonista ancora lunedì sera, con la visita alle 18 al point di Piazza Colombo del ministro alle politiche agricole e turismo Gianmarco Centinaio.